Benvenuti a Malta, un arcipelago nel Mediterraneo centrale, noto per la sua ricca storia, i paesaggi mozzafiato e la vivace cultura. In questo video scopriremo alcuni dei luoghi imperdibili, la cultura unica, le città affascinanti e le spiagge più belle che questa nazione insulare ha da offrire. Quindi, tuffiamoci ed esploriamo la magia di Malta. Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta offre ai visitatori una miscela unica di culture e tradizioni, modellata da secoli di influenze straniere. Una delle principali attrazioni di Malta, un'isola affascinante situata nel mar Mediterraneo, è l'antica città di Mdina, conosciuta anche come la Città Silenziosa. Questo affascinante luogo storico attira visitatori da tutto il mondo grazie alla sua ricca storia, alla magnifica architettura e alle affascinanti vedute panoramiche sull'isola. Mdina è una città fortificata che si erge con fierezza nel cuore dell'isola di Malta. Con le sue strette strade acciottolate, le antiche mura di pietra e le maestose porte d'ingresso, Mdina trasuda un'atmosfera medievale che cattura l'immaginazione di chiunque vi ponga piede. Camminare per le strade di questa città è come fare un viaggio nel tempo, immergendosi in un'epoca passata e vivendo l'eredità storica di Malta. Il patrimonio architettonico d'ingrina è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. La città è costellata di palazzi magnifici, chiese imponenti e piazzi affascinanti, che testimoniano il passato glorioso d'ingrina. Molti di questi edifici risalgono al periodo medievale e sono stati splendidamente conservati nel corso di secoli. I dettagli intricati delle facciate, gli interni riccamente decorati e gli affreschi affascinanti sono solo alcuni degli elementi che rendono l'architettura d'ingrina unica e affascinante. Ma non è solo l'architettura che rende mdina una destinazione così affascinante. La posizione strategica della città offre anche incredibili viste panoramiche sull'isola di Malta. Dal punto più alto d'ingrina, chiamato Bastioni di Ville Gagnon, è possibile ammirare un panorama mozzafiato che si estende fino all'orizzonte. Le colline ondulate, i campi ferti e il mar Mediterraneo che si estende all'orizzonte creano uno scenario da cartolina che incanta i visitatori. Mdina non è solo una città storica isolata, ma si trova anche nelle vicinanze di Rabat, un'altra località di grande interesse storico e culturale. Rabat è famosa per le sue antiche catacombe, le chiese storiche e le testimonianze dell'era romana. La combinazione di Mdina e Rabat offre un'esperienza completa per gli amanti della storia e della cultura, permettendo loro di esplorare entrambe le città e scoprire la ricchezza del patrimonio maltese. Un'altra destinazione imperdibile nell'affascinante isola di Malta è la Valletta, la capitale della nazione e un vero gioiello architettonico. Designata come sito patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la Valletta è rinomata per la sua straordinaria architettura barocca e i suoi siti storici che catturano l'immaginazione dei visitatori. Uno dei luoghi più celebri di la Valletta è la concattedrale di San Giovanni, un capolavoro dell'arte barocca. Nonostante la sua facciata relativamente semplice, l'interno della cattedrale è mozzafiato. Il pavimento in marmo è splendidamente decorato con gli stemmi delle famiglie nobiliari dei Cavalieri dell'Ordine e le tombe dei Cavalieri stessi sono collocate all'interno. Questo luogo sacro offre un'esperienza unica, che permette ai visitatori di immergersi nella storia e nell'eredità dei Cavalieri ospitalieri. Nel cuore del centro storico di la Valletta si erge il maestoso Palazzo del Gran Maestro. Costruito nel XVI secolo come residenza ufficiale dei maestri dell'Ordine dei Cavalieri ospitalieri, questo edificio storico è ricco di fascino e oggetti di grande valore. Attraverso le sue stanze eleganti e i suoi cortili affascinanti, il Palazzo del Gran Maestro racconta la storia dell'Ordine e della città stessa, offrendo un'immersione completa nella ricchezza culturale di Malta. Gli splendidi giardini di Upper Baracca sono un altro luogo da non perdere alla Valletta. Questi giardini, uno dei pochi spazi verdi presenti nella città, sono celebri soprattutto per le loro viste panoramiche spettacolari. Dall'alto dei giardini, si può godere di una vista superba sulla Gran Harbour, ammirando le maestose tre città che si stagliano sullo sfondo e il pittoresco Porto Grande. Questo panorama mozzafiato lascia senza fiato e offre una prospettiva unica sulla bellezza naturale e storica dell'area circostante. Mentre passeggi per le strade affascinanti di la Valletta, sarai conquistato dall'atmosfera vibrante che permea la città. I caffè pittoreschi, i ristoranti accoglienti e le boutique alla moda creano un'atmosfera invitante e affascinante. Inoltre, le viste spettacolari sul Gran Harbour ti offrono uno spettacolo indimenticabile mentre ti immergi nella vita quotidiana della capitale maltese. Per coloro che desiderano esplorare il passato preistorico di Malta, una visita agli antichi tempi di Agar Kim e Mnajdra è assolutamente d'obbligo. Queste imponenti strutture megalitiche risalgono a circa 3600 anno corrente e rappresentano alcuni dei monumenti indipendenti più antichi del mondo. I tempi di Agar Kim e Mnajdra sono una testimonianza affascinante della ricca storia. Malta è anche rinomata per le sue bellissime spiagge, con l'imbarazzo della scelta quando si tratta di prendere il sole, nuotare e praticare sport acquati. Una delle spiagge più famose è Meliea Bay, un tratto di costa sabbioso con acque cristalline e numerose strutture per i bagnanti. Per un'esperienza più appartata, prova la pittoresca Paradise Bay o l'idillia Calaguna Blu sulla vicina isola di Comino. Se stai cercando un assaggio dell'autentica cultura maltese, assicurati di visitare l'affascinante villaggio di pescatori di Marsaxlok. Questo pittoresco porto è fiancheggiato da colorate barche da pesca, conosciute come Lutzus, ed è un punto di riferimento per pesce fresco e vivaci mercati all'aperto. Il villaggio è anche un'ottima base per esplorare la vicina St. Peter's Pool, un luogo naturale per nuotare con acque cristalline e meravigliose formazioni rocciose. Per gli appassionati d'arte, la vivace città di Sliema è una destinazione imperdibile. Conosciuta per la sua vivace scena artistica, Sliema ospita numerose gallerie, eventi culturali e arte di strada unica. Mentre esplori la città, troverai anche una vasta gamma di opportunità per lo shopping, caffè alla moda e una vivace vita notturna. Il calendario culturale di Malta è ricco di eventi e festival che mettono in risalto le ricche tradizioni e l'atmosfera vibrante dell'isola. Dalle vivaci celebrazioni del Carnevale a febbraio alle colorate feste paesane durante i mesi estivi, c'è sempre qualcosa da fare a Malta. Gli amanti della musica apprezzeranno anche l'annuale festival musicale Isle of Mtv e il Malta Jazz Festival, che attirano artisti internazionali e migliaia di visitatori ogni anno. Per gli amanti della natura, Malta offre una vasta gamma di attività all'aria aperta e paesaggi mozzafiato. La costa frastagliata dell'isola è perfetta per le escursioni, con sentieri come le Dingley Cliffs e le Victoria Lines che offrono viste mozzafiato sul mar Mediterraneo. Nel frattempo, le acque azzurre che circondano Malta offrono eccellenti opportunità per le immersioni, lo snorkeling e la vela. In conclusione, Malta è una destinazione che offre un ricco arazzo di storia, cultura e bellezze naturali. Con le sue meravigliose città, le bellissime spiagge e l'atmosfera vibrante. Questo gioiello del Mediterraneo creerà sicuramente ricordi indimenticabili per ogni viaggiatore. Quindi, fai le valigie e preparati ad immergerti nella magia di Malta.